Buongiorno, mister e master. Lynch, è l'Octobre 2021 e è il settore, qui in Aplos 74 a circa 23 celsius. Ed è quella giornata veramente, 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 veramente mite, ma in questi giorni, in questo periodo, anche se verso la fine del report dico cosa in più, in ogni caso l'atmosfera è sempre piacevole, con un buon vento. E oggi, certamente, o che quasi sicuramente dirà la frase sui weekend projects, io già la ringrazio in anticipo e ricambio anche per i suoi progetti. Poi in fondo, in mio caso, sono gli stessi alla settimana. E poi, pensiero del giorno, forse, in poche parole, latte con cereali, latte, caffè, cereali e biscotti. Disfrotti con le, diciamo, con le gocce di cioccolato. Anyway, as you just see from the window, Today, we don't have those beautiful skies and golden sunshine, it's cloudy as easy. And I think, I think, I credo che potrebbe piovere le prossime ore, tutto il fatto che la temperatura potrebbe abbassarsi ancora nei prossimi giorni. But as always, we will see, so, say this, so, from the mythical window, the decared curtains and its green shooter, behind me. And finally, from my mythical keyboard, Have a great day, him and everyone too. Yes, is there a bot! So, say this, you just take to look a bit of food.